Sono sicuro che avete litigato almeno una volta con il vostro partner e sono anche sicuro che sappiate quanto possa essere pericolosa una discussione. Anche un singolo passo falso può portare ad una tragedia e non lo dico solo per essere tragico ma perché cose del genere sono successe e succedono ancora. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e chiarire col vostro partner perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Questo video voglio ricordare Kathleen Dawn West, chiamata da tutti Kitty. Nonostante la sua storia sia abbastanza conosciuta, ho come l'impressione che non venga ricordata abbastanza, quindi eccomi qui. Per oggi consiglio davvero di aprire la mente e lasciare alle spalle ogni preconcetto o pregiudizio. Vi racconterò la realtà di questa donna che può essere diversissima dalla nostra e lo farò perché la consapevolezza non è mai abbastanza. Esiste un mondo oltre il nostro naso, la vita di ognuno di noi è diversa e per i motivi più disparati e dobbiamo ricordarcelo prima di giudicare. Ho capito che grazie a queste storie, conoscendo queste persone molto diverse, possiamo davvero migliorarci, stare più al sicuro e imparare tantissimo. Quindi a mente libera preparatevi per entrare nella vita di Kitty Cat West. Purtroppo non sappiamo praticamente nulla sul suo passato. Devo ammettere che cercare informazioni su di lei è un po' difficile, perché oltre ai vari articoli che raccontano la vicenda, ci sono anche tantissimi siti per adulti che riportano i suoi contenuti. Capitemi. Quindi tutto quello che sappiamo su Kitty risale in realtà al periodo in cui è già abbastanza grande. È una persona vivace, energica e grintosa. È quel tipo di persona festaiola e sempre sorridente. Il contrario di me. Kitty è una donna emancipata, non ha paura di dire quello che pensa e sarebbe capace di cambiarsi i vestiti davanti ad un estraneo senza problemi. È la classica persona che ami o che odi, a seconda del tipo di rapporto che hai con lei. Nel senso che se le stai antipatico o antipatica, Kitty te lo dice senza nessun problema. Principalmente è conosciuta per la sua allegria e la sua spensieratezza e cerca sempre di passare il suo tempo tra amici e relax. Però non vedetela come una di quelle persone che non hanno voglia di fare nulla nella vita. Non è una persona pigra, anzi è piena di cose da fare. Chiama spesso amici e conoscenti per bere una birra, uscire o fare delle vere e proprie feste, così di punto in bianco, senza organizzare troppo. Possiamo anche dire che Kitty è il tipo di mamma che ogni figlio vorrebbe avere, perché oltre ad essere premurosa e disponibile, è molto simpatica e diretta. Infatti diventa mamma e anche moglie di un uomo con cui si era frequentata per un po' e con cui si è sposata a Las Vegas. Il suo compagno, ora marito, e padre di sua figlia si chiama Jeff West. Kitty conosce Jeff per la prima volta nel 2004 ad una festa del Super Bowl e da lì, dal loro primo incontro, scatta il colpo di fulmine. Si frequentano per un po' e molti della loro cerchia fanno notare un dettaglio piuttosto importante. Avete presente quando si dice che gli opposti si attraggono? Ecco bisogna stare molto attenti perché se gli opposti in questione sono agli estremi opposti, diciamo che potrebbero presentarsi dei problemi. Perché dico questo? Perché Jeff è proprio l'esatto opposto di Kitty. È un tipo tranquillo, riservato e pacato. È una di quelle persone che si fa sempre gli affari suoi, fa il suo dovere, ha le sue cose e basta. Ha un carattere piuttosto risoluto, dovuto probabilmente all'addestramento da soldato. Infatti in passato aveva prestato servizio come reclutatore nell'esercito, ora invece è un addetto della sicurezza del campus al Birmingham Southern College. Quindi lui pacato, lei festaiola, lui di fisico normalissimo, lei come una supermodella, ma si piacciono ugualmente. Si trasferiscono a Calera in Alabama e la loro vita procede tranquilla come non mai. Il loro matrimonio è un po' chiacchierato non solo per la differenza di carattere, ma anche per le differenze fisiche. Cioè Kitty è una donna avvenente che non teme di mettersi in mostra, bionda, con un fisico snello, occhi azzurri, mentre lui è calvo, dal viso quasi anonimo e da un fisico apparentemente nella media. Forse è un po' massiccio per via del lavoro e dell'addestramento, ma non regge il confronto tra virgolette con sua moglie. È la classica coppia che se li vede insieme pensi che lei sta con lui o per i soldi o per qualcosa lì sotto. Comunque, al di là di questi gossip, di questi pettegolezzi, Jeff è molto innamorato di Kitty e lei lo è di lui. Sono proprio presi l'uno dall'altra e sono una vera famiglia unita, una coppia innamorata. Jeff è un ottimo padre, Kitty una buona mamma. Anche se la vita da casalinga un po' la travolge, se la fa andare bene senza troppi problemi. Anche perché c'è un dettaglio piccante che tiene unita la coppia e che rende Kitty ancora quella ragazza vivace che è sempre stata. Ora vi spiego. Come avete visto, Kitty ci tiene molto a suo aspetto, tanto che ha richiesto un intervento per migliorare il suo viso. Jeff in tutto ciò è tranquillo come al solito, non è il classico marito che impedisce cose o che è contrario alle scelte di sua moglie. Anche perché è un suo complice, tra virgolette, in un business che hanno messo in piedi. L'identità virtuale di Kitty Cat West. Kitty Cat è l'identità virtuale erotica di Kitty. È una sorta di gioco di parole traducibile con Kitty la gatta o qualcosa del genere. Quindi questa identità virtuale erotica è gestita sia da lei che da suo marito Jeff. Kitty Cat è presente sui social e su un sito apposito a pagamento, nonché anche su OnlyFans, dove pubblica scatti molto provocanti con outfit sempre succinti e particolari. Lei di base è una bella donna e Jeff è la mano dietro quegli scatti. Pare che tutte o quasi tutte le foto siano state scattate da lui, o comunque sempre dietro sua approvazione. Insieme sono come una squadra, una coppia che lavora solo su Kitty ma da cui guadagnano entrambi. E parlo di soldi. Tanti soldi. Kitty Cat infatti spacca sui social e sulle piattaforme per adulti fa anche dei contenuti su richiesta da parte dei suoi ammiratori, che devono pagarla per fare questi contenuti. Non è chiaro se in alcuni di questi contenuti ci fosse anche Jeff. Non si sa se si siano fatti dei video insieme o cose del genere. Comunque è sicuro che la star di tutto questo è Kitty. E lei non può che esserne orgogliosa, oltre che entusiasta. Ha passato tutta la vita ad essere una donna forte, circondata da movimento e approvazione. E diventata mamma ha sicuramente messo in secondo piano tanti piaceri per venire incontro alla vita familiare. Ma con quest'alter ego provocante, con Kitty Cat, ritrova tutto quel brio di cui si è sempre nutrita. Ha pure la complicità del marito, con cui va d'accordissimo e con cui collabora. Giustamente non rivelano a tutti questa loro intesa, la tengono abbastanza segreta. Per tutti gli amici Kitty è un'avvenente casalinga, molto esuberante ma niente di più. Jeff in tutto questo non è affatto geloso, anzi, come vi ho detto, è di grande sostegno per Kitty, anche materialmente parlando. È tutto perfetto, insomma, quasi un'utopia se consideriamo certe coppie. Una complicità del genere è davvero rara, ma se tutto fosse rimasto così ragazzi, se la loro vita non fosse stata improvvisamente travolta o cambiata in qualche modo in peggio, io non avrei fatto questo video. Il giorno cruciale è il 12 gennaio 2018. Quel giorno Jeff e Kitty hanno in programma un weekend tutto per loro. Vogliono concedersi un bel po' di tempo per fare cose da adulti e in generale per rilassarsi insieme. Affidano quindi la loro figlia ai genitori di Jeff, così sarebbero stati tranquilli, soli e appartati. Decidono di andare in un ristorante, cenano lì e la serata si prospetta molto piccante. Sono molto presi, tanto che prima di tornare a casa si fermano in due posti, due minimarket. La telecamera del primo negozio li riprende mentre comprano dell'assenzio e altri alcolici. Una volta usciti da lì vanno in un altro minimarket e prendono delle bibite gassate. Poi tornano a casa. Rimangono svegli per un bel po', si ubriacano male e fanno le loro porcellate. Scattano anche qualche foto per lavoro e fin qui tutto normale. Kitty però si lascia un po' troppo andare con l'alcol, ma anche Jeff non scherza e da questo punto in poi abbiamo delle informazioni un po' confuse. Ed è comprensibile dato che entrambi erano molto ubriachi. Ma la faccenda si complica. Sembra che Kitty quella sera stesse chattando un po' troppo, tanto che Jeff si è spazientito. Spesso Kitty riceveva messaggi dai suoi ammiratori o da gente a caso, tutti messaggi con complimenti o cose sporche e spiacevoli. Ma Jeff è sempre rimasto rigido. Riusciva a separare la loro relazione da quel lavoro. Capiva che quei messaggi sarebbero arrivati e gli andava bene. Quella sera però, vuoi per la sbronza o vuoi perché Kitty forse stava davvero esagerando, Jeff inizia a infastidirsi. Sono circa le 22 e 30. I due iniziano a litigare animatamente. E Jeff infuriato prende il telefono di sua moglie, apre la porta di casa e lo lancia fuori. Una volta fatto ciò dice mezza parola a Kitty e sale al piano di sopra per andare a dormire. Kitty nel frattempo riapre la porta di casa, la lascia aperta e va fuori, molto probabilmente per recuperare il telefono. Ma a questo punto della vicenda c'è uno stacco temporale e si passa direttamente al giorno successivo. Sono le 5 del mattino, è prestissimo. Una persona che vive in fondo alla strada, una vicina a 19enne, sta uscendo quando si accorge che in prossimità della casa dei West c'è qualcuno riverso per terra a faccia in giù. La ragazza si spaventa, rimane fuori per qualche secondo e poi rientra e spiega ai suoi genitori che cosa ha visto. Dopo un po' contattano insieme il 911 e gli inquirenti arrivano e analizzano quello che si trovano davanti. È una scena del crimine e la vittima è proprio Kitty Kat West. Qualcuno si starà chiedendo perché è una scena del crimine? E infatti all'inizio non si era neanche pensato a questo. All'inizio si credeva che Kitty fosse caduta morendo in modo accidentale, ma una volta intervenuti gli inquirenti e analizzato bene il tutto si scoprono dei dettagli che fanno subito insospettire. Tanto per cominciare ci sono due grosse chiazze di sangue, una vicinissima al corpo e l'altra poco distante. Questo fa pensare che forse Kitty è stata uccisa nel punto poco distante per poi essere trascinata fin lì. Gli altri dettagli sono il cellulare della donna e la bottiglia di assenzio che aveva acquistato quella sera. Ecco i due oggetti sono disposti in modo fin troppo preciso. Il telefono è riverso per terra e la bottiglia è appoggiata delicatamente sul suo corpo, quasi come se qualcuno avesse messo lì quegli oggetti con molta cura. Cioè se Kitty fosse caduta per caso, la bottiglia e il telefono non sarebbero stati trovati così. Kitty ha poi una ferita piuttosto importante sul lato sinistro della testa. E dopo l'autopsia ragazzi scoprono che ha il cranio fratturato ed è morta proprio a causa di un trauma cranico causato da un corpo contundente. Non poteva essere un danno provocato da una caduta. Qualcuno deve averla colpita con qualcosa. Già queste cose fanno allarmare e considerando che casa sua è lì a due passi, si fanno due domande e inizia così l'indagine per omicidio. Sulla bottiglia di assenzio trovata appoggiata al corpo è stato rinvenuto del sangue e questo fa pensare che forse proprio quella bottiglia fosse l'arma del delitto. O magari il sangue ritrovato appartiene al suo aggressore. Analizzandola meglio si trovano risposte certe. Manca un pezzetto di bottiglia e le impronte di Jeff sono dappertutto. Gli inquirenti quindi pongono le loro attenzioni su di lui, chiaramente, e lo interrogano in modo estenuante per ben sei ore. Lui racconta la sua versione, ovvero quello che vi ho già detto io. Racconta della serata al ristorante, delle bottiglie comprate, della sbronza e della litigata. Dice poi di essere andato a letto verso le 22 e 30 dopo aver lanciato il telefono di Kitty fuori di casa. E dice di essersi svegliato la mattina successiva perché i suoi cani stavano abbagliando al suono delle sirene della polizia. Quindi racconta di aver cercato sua moglie ovunque perché non la trovava. A quel punto è uscito fuori e ha realizzato che era morta. Eppure la diciannovenne, la vicina che ha trovato il corpo, racconta un dettaglio diverso. Lei dice che quel giorno, quando ha scoperto il cadavere, prima di chiamare i suoi genitori, ha intravisto Jeff in casa che camminava su e giù al telefono. Cioè stava parlando al telefono e andava su e giù. Ed è un dettaglio abbastanza strano. È tutto decisamente confuso e i detective che stanno interrogando Jeff hanno un brutto presentimento. Al momento non hanno nulla su cui basare questo sentimento ma percepiscono qualcosa di losco in lui. Come se stesse nascondendo qualcosa. Anche perché per esempio il giorno della scoperta del cadavere, lui è uscito di casa con una sigaretta in bocca e si è avvicinato agli agenti in un modo molto rilassato. Fin troppo. Va bene che lui è un tipo tranquillo di base ma se dici di non aver trovato tua moglie ed esci e la vedi lì riversa a terra senza vita, un minimo dovresti preoccuparti. Però vabbè, ognuno ha il suo modo di reagire alle tragedie anche se una persona è calma non significa che non sia dispiaciuta o terrorizzata. Comunque diciamo che Jeff in quel momento specifico sembrava non curante. Anzi la parola da usare forse sarebbe inquietante. Fatto sta che controllano fisicamente il corpo dell'uomo e notano una ferita sul braccio ma non riescono a stabilire molto, cioè non capiscono se si tratta di una ferita recente o di una più vecchia. Il che è molto strano ma così è. Si pensa comunque che Jeff si sia procurato quel graffio la notte del 12 gennaio litigando con Kitty. L'uomo rivela ai detective il lavoro di sua moglie, parla del sito e dei profili che gestivano insieme e si mostra comunque molto disponibile e aperto nei loro confronti. A questo punto magari volendo sperare in meglio gli investigatori pensano che se non è stato Jeff ad ucciderla magari è stato qualche suo follower. Forse qualche suo follower si è incazzato per qualche motivo e la voleva morta. È pieno il mondo di squilibrati perciò può essere che lei avesse avuto a che fare con uno di questi. Magari con uno squilibrato arrapato di cui non ha mai parlato con nessuno, neanche con suo marito. Per risolvere questi dubbi una volta finito con Jeff le autorità analizzano il cellulare di Kitty. Controllandono scoperchiano una sorta di vaso di Pandora, scoprono la chat di Kitty e suo marito Jeff. Messaggi che risalgono a settimane prima della sua morte e dalla chat si evince una situazione di coppia per nulla felice. Dimenticate tutte le cose belle dette prima. Jeff e Kitty da un bel po' non stavano affatto bene insieme. Lei gli aveva inviato delle minacce velate, aveva manifestato un comportamento passivo-aggressivo perché voleva fargli capire che lui stava sbagliando con lei. Non è chiaro nello specifico a cosa si riferisse ma è palese che tra di loro non stava più funzionando come un tempo. Per fare un po' di chiarezza sono stati chiamati anche gli amici e i conoscenti di entrambi e hanno tutti spiegato che Kitty da sempre provasse un certo brio nel litigare con Jeff, soprattutto da ubriaca. Praticamente spiegano che Kitty era piuttosto prepotente, scherzava in modo pesante con Jeff, soprattutto quando beveva. Ma gli amici hanno anche giurato di non aver mai visto Jeff litigare con lei. Lui si è sempre mostrato quell'uomo pacato di cui Kitty fin dall'inizio si era innamorata. Come vedete ci sono delle discrepanze e un disegno chiaro della vita di Kitty negli ultimi tempi in realtà non c'è. Alcune informazioni sembrano cozzare l'una con l'altra e non si viene a capo di un movente o di una persona che con prove alla mano le abbia tolto la vita. Ma ecco che scoprono un ulteriore dettaglio nei telefoni di Kitty e di Jeff. Entrambi hanno quell'app che conta i passi. La conoscete no? Ecco, quell'app che monitora il tuo movimento e la tua salute. Si chiama salute proprio. E grazie a quest'app hanno una finestra temporale precisissima sugli spostamenti di Kitty. L'applicazione è ferma alla sera del 12 gennaio, la sera del litigio, alle 22.54 precise. Lì la donna deve aver compiuto i suoi ultimi passi. I movimenti di Jeff invece sono più preoccupanti perché mostrano una versione dei fatti diversa da quella che aveva raccontato alla polizia. La sua applicazione ha registrato il penultimo movimento il 12 gennaio alle 22.17. Dieci passi. Molto probabilmente quelli che ha fatto per gettare il telefono di sua moglie per poi salire e andare a letto. Ma ecco che guarda un po' che strano spunta un movimento dalle 23.03 alle 23.10 per un totale di 18 passi. Poi i passi riprendono la mattina successiva circa l'orario del ritrovamento del corpo. Quindi la fascia di tempo dalle 23.03 alle 23.10 che cosa significa? Quei 18 passi in più. Quei 18 passi fatti dopo aver lanciato il telefono ed essere andato a letto. Da dove arrivano? Perché li avrebbe fatti? Se aggiungete il sospetto dei messaggi scambiati settimane prima e la sua calma il giorno della scoperta è lecito pensare male. Non è che per caso Jeff quella notte ha fatto qualcosa di terribile. E così giovedì 22 febbraio 2018 Jeff West viene arrestato per l'accusa dell'omicidio di sua moglie Kathleen Dawn West. Lui si dichiara subito non colpevole e gli viene fissata una cauzione davvero molto alta. 500.000 dollari. Nessuno gliela paga e lui al processo ribadisce di non avere niente a che fare con questo delitto. Continua a dire di amare sua moglie. Ribadisce la sua versione dei fatti dicendo che deve essere stato solo un tragico incidente. Probabilmente era accaduta in modo molto violento e aveva perso la vita. Eppure ci sono molte cose che non tornano. Come si spiegano le due pozze di sangue e la bottiglia piena delle impronte di Jeff. E come si spiega il sangue dentro la bottiglia. Oppure la forma della ferita mortale perfettamente allineata con la bottiglia stessa. È possibile che sia stato tutto un incidente. I pubblici ministeri pensano che lui, ubriaco e arrabbiato, non sia andato a letto quella sera. O se sì, deve essere sceso di nuovo per colpire in testa sua moglie, spostare il corpo poco più lontano, poggiare la bottiglia e tornare in casa. Anche perché se così non fosse, come spiegare quei 18 passi dalle 23.03 alle 23.10? Per caso Jeff è sonnambulo? Si è alzato per fare la pipì? Deve fare 18 passi per andare in bagno? Ha per caso il cesso all'aperto in giardino? È tutto tremendamente sospetto e strano. Ma la difesa di Jeff fa altrettanto riflettere. Anzi ci porta a pensare seriamente alla sua innocenza. Vi spiego. Per difendere Jeff, il suo avvocato, avanza delle critiche piuttosto importanti. Tanto per cominciare fa intendere che le prove presentate contro di lui siano solo circostanziali. Il che è vero. Il fatto che ci fossero le sue impronte su quella bottiglia non prova effettivamente che sia stato lui a colpirla con quell'oggetto. Avevano bevuto entrambi quella sera. E per quanto riguarda il sangue nella bottiglia, poteva essere collegato al graffio che Jeff aveva sul braccio. Dalla bottiglia poi manca un pezzo. Un pezzo che non è stato trovato addosso a Kitty. E pensate che sugli indumenti di Jeff stesso, la scientifica non ha proprio trovato il DNA di Kitty. Per quanto riguarda le chat poi, affermano che potrebbero voler dire tutto e niente. Ed è vero. E il fatto che lui non avesse mostrato sconforto al momento della scoperta della morte potrebbe essere normale. L'avvocato fa notare che Jeff è un soldato. È abituato alla morte e al dolore. E anche se non ha ceduto al dramma nel momento della scoperta, non vuol dire che è un assassino. Ad avvalorare queste parole dell'avvocato interviene la suocera di Jeff, ovvero la madre della vittima, che dice che successivamente l'uomo aveva piante come. Sul momento dice che ha saputo resistere per poi crollare inevitabilmente poco tempo dopo. In tutto ciò però, sembra che la difesa non riesca davvero a spiegare quei 18 passi. E per quanto l'ipotesi della sua innocenza fosse interessante, viene fatto notare un ulteriore dettaglio a sfavore dell'uomo. Le impronte sulla bottiglia ritrovata accanto al cadavere sono impronte capovolte. Nel senso è come se Jeff, perché le impronte sono sue, avesse tenuto la bottiglia a rovescio. Quindi dal collo e non dalla base. Quindi perché dovresti tenere una bottiglia a rovescio? Evidentemente la vuoi spaccare in testa a qualcuno, o magari lanciarla da qualche parte. Come se non bastasse, Jeff si dichiara destrorso. Eppure le impronte sulla bottiglia sono della sua mano sinistra. Ma il suo avvocato ha una giustificazione anche a questo. Sostiene infatti che Jeff, quando l'ha acquistata, l'ha messa nella borsa e tornato a casa al momento di estrarla l'ha presa giustamente dal collo. Ha senso. E oltre a questo, in casa non c'è alcuna traccia del sangue di Kitty, ma ci sono molte circostanze sospette che fanno pensare male ancora una volta. Per esempio, qualcosa che potrebbe spiegare quei 18 passi sospetti. Praticamente il sistema di sicurezza della casa rileva quando è stata aperta o chiusa la porta d'ingresso. Ecco, ricordate che quando Kitty era uscita l'aveva dimenticata aperta. Ebbene questa è stata chiusa subito dopo. Da chi non si sa. Ma poi, ed è qui il sospetto, è stata aperta all'1.51 ed è rimasta aperta per altre due ore e mezza. Ogni cosa sembra essere contro Jeff. Ci sono troppe cose che non tornano. Infatti, per quanto bravo, il suo avvocato inizia a sudare freddo. Certe cose sono palesi e difficili da contestare. La giuria infatti fa molta attenzione alle prove portate al processo e si fa un'idea piuttosto chiara. E alla fine, dopo diversi trambusti con le prove, la decisione tra i giurati è stata unanime. Jeff West è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo per la morte di sua moglie, Kathleen. Non ha mostrato alcuna emozione quando è stato letto il verdetto. E anche qui ci si chiede se questa sua presunta apatia fosse dovuta all'addestramento militare o se fosse davvero un reale distacco emotivo. Comunque durante l'udienza di condanna era evidente che i genitori di entrambi non credevano nella sua colpevolezza e lo hanno sostenuto. La madre della vittima, quella che durante il processo ha affermato che Jeff avesse pianto, dice queste parole. È un bravo uomo e non ha fatto niente del genere. Ci credo assolutamente e con tutto il cuore, perché so cosa abbiamo passato dopo la morte di mia figlia. Jeff ha vissuto con me. Siamo andati insieme all'impresa di pompe funebri. Abbiamo visto il corpo insieme. Ho guardato Jeff negli occhi. Non può aver finto la sua reazione quando eravamo all'impresa di pompe funebri, piangendo e dicendo che non poteva essere vero. Non è stato lui. Sempre la madre di Kitty specifica che sua figlia fosse un'alcolizzata, goffa da sobria ed eccessivamente eccentrica da brilla. Ed è una cosa particolare che la madre della vittima stia favorendo il presunto assassino. Non è una roba da tutti i giorni. In tutto ciò Jeff deve scontare 16 anni di reclusione, ma dato che non aveva precedenti penali è probabile che col tempo la pena possa diminuire. Questo dipende anche da come si comporta in prigione ovviamente, ma l'intera faccenda ha lasciato la città e i diretti interessati, perplessi, amareggiati e confusi. Sotto certi aspetti in un modo o nell'altro non è la fine che tutti si aspettavano. Si inizia a pensare nel profondo che lui non ha davvero fatto nulla. Io devo essere onesto, a questo punto non so cosa dire. Ci sono delle evidenti stranezze in Jeff, molte cose che potrebbero incolparlo. Una parte di me dice, sì cazzo è lui per forza, ma dall'altra penso, ma perché? Perché lo avrebbe fatto? Qual è il movente? Era geloso? Possibile che abbia represso tutto questo? Dai messaggi è Kitty ad essere sempre incazzata e di riflesso lo è anche Jeff. Ma come si spiegano i suoi spostamenti notturni e i dettagli nella scena del crimine? Che sembra una messa in scena. Cioè è tutto così confuso? Alla fine le prove sono state talmente tante che pur essendo circostanziali, la giuria ha votato per la sua colpevolezza. Quindi per quanto possiamo parlarne, il verdetto è quello. Pur vero che i processi possono essere sbagliati, ma sembra che per il momento non sia stato fatto alcun ricorso o cose simili. Quindi stiamo a vedere se ci saranno sviluppi in futuro. Quando ci saranno aggiornamenti metterò un commento fissato qua sotto. Ma voi invece cosa pensate? È stato lui oppure è stato un incidente? Oppure ancora è stato qualcuno che non abbiamo neanche preso in considerazione? Fatemelo sapere. Oggi più di ogni altra volta vi chiedo di essere rispettosi con le vostre teorie. Si tratta di una persona che ha perso la vita. Per cui qualsiasi sia il vostro credo o il vostro giudizio sul suo lavoro, dimenticatevelo. Pensate solo che è una persona e che adesso non è più qui. Quindi formulate le vostre ipotesi e avrò il piacere di leggerle. Intanto per i pochissimi fedeli che rimangono fino alla fine, vi anticipo che sto ascoltando i vostri consigli e a breve arriveranno video su Giunco, su Albert Fish e su tante altre storie che da tanto volete sentirmi raccontare. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te, sì proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito nel profondo. Se invece siete ancora qui, io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!